Viva Arte Venezia, Paola Paesano che porta un'opera figurativa che rappresenta una bufala. Paola, benvenuta a Viva Arte Venezia, ci parli della sua opera. Sono un medico veterinario che lavora per molti anni in terra di lavoro, quindi nella provincia di Caserta. Sto sviluppando un progetto da un punto di vista artistico di rivalutazione del territorio e anche di denuncia. Per questo motivo la mia rappresentazione artistica si concentra sulla bufala in particolare che comunque vuole a voce attraverso le mie opere e vuole quindi denunciare e rivalutare il territorio. In quest'opera, Pensieri miei, c'è un'assonanza con una poesia di Edoardo De Filippo dove appunto, come recita la poesia, anche la bufala vuole liberare i suoi pensieri ed esprimere quello che pensa a favore del territorio. Grazie, grazie per davvero bel percorso. Grazie a voi.